ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale allora oggi volevo aprire con voi questo pacco che mi è arrivato da Best Clay è la prima volta che faccio un ordine su questo sito quindi niente, apriremo insieme questo pacco, vi farò vedere le cose che ho acquistato e spero appunto che siano arrivate in buone condizioni ma credo di sì l'ordine arriva veramente in pochissimi giorni, sono molto puntuali io l'ho ordinato tre giorni fa e ieri era già arrivato quindi non so da dove spediscano, io sono di Roma però veramente sono stati molto veloci allora andiamo ad aprire il pacco ok allora ho acquistato questo panetto di fimo color Sahara un altro panetto di fimo sempre, ah no scusate, questo è rosa carne che ho comprato in quantità industriale, bianco, ecco, nero, rosa carne e Sahara perché sono quelli che uso di più sono tutti uguali nero questo sempre bianco nero poi un panetto di fimo professional giallo devo dire che il giallo è molto fluorescente, non so se si vede dal sito l'avevo visto un po' più chiaro però vabbè troverò insomma, proverò a impiegarlo in qualche maniera, questo colore poi ho preso del fimo marrone che mi era finito un altro fimo Sahara poi ho preso il fimo liquid grande da 200 ml che veramente è super conveniente perché da me il negozio costa all'incirca sui 22-23 euro mentre qui l'ho pagato 12 mi sembra quindi veramente conviene molto e poi ho comprato il fimo air da 500 grammi lo volevo provare con voi, infatti a breve farò una specie di video recensione l'ho preso bianco, volevo provare a colorarlo con gli acrilici e vedere appunto che effetto dà, che differenze ha dal fimo normale eccetera questo è il mio fratto allora ragazzi, queste sono le cose che ho comprato devo dire che sono arrivate tutte quante in ottimo stato quindi consiglio assolutamente questo sito per chi non l'avesse ne provato anche perché comunque è veramente conveniente rispetto al negozio allora io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ciao ciao